Salve a tutti. L'intensificazione dei controlli di questi giorni sta dando i primi risultati. Aumentano le persone che si adeguano con disciplina alle regole di comportamento per la riduzione del contagio. Ma bisogna andare avanti con severità in questa direzione. Per questo sono d'accordo con la decisione del Presidente della Regione Rossi di emanare un'ordinanza che preveda l'obbligo di indossare mascherine e dispositivi di protezione, come i guanti, quando si esce. Credo che sia una misura oggi possibile grazie al fatto che stanno arrivando milioni di mascherine dalla Cina. In questo senso è fondamentale avviare un piano di coordinamento della distribuzione con i comuni, con l'aiuto della protezione civile e della rete del volontariato. Un piano che potrebbe essere coordinato da un commissario ad hoc nominato dalla Regione per gestire tutte le operazioni che devono partire il prima possibile. Oltre che per prevedere delle filiere di produzione locale di queste mascherine. È inaccettabile la speculazione in atto. Ho saputo da alcuni cittadini che in alcune farmacie si vendono mascherine basilari tipo chirurgiche a più di 2 euro quando potrebbero costare meno di 50 centesimi. Per questo è necessario ed è utile un piano come quello annunciato. Approfitto per augurare a tutti una buona Domenica delle Palme, affinché questa nostra solitudine, queste nostre preoccupazioni, lasciano spazio al senso di fratellanza e alla speranza. A tutti tanti auguri.